Pizzerie nel mirino di Piromani a Barletta succede questa volta i danni di un'attività con sede in via Canosa fresca di restyling interno. I gnoti hanno dato alle fiamme le due serrande dell'esercizio commerciale nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno. Danni materiali di lieve entità ma tanta preoccupazione per il titolare e i suoi dipendenti che all'apertura hanno dovuto fare i conti con una situazione desolante. Saracinesche annerite dal fumo e la sensazione di una proprietà privata che viene violata. Ecco quello che succede a chi svolge il proprio lavoro con onestà, lealtà e professionalità è stato l'amaro commento affidato ai social dal titolare Francesco Barbaro noto nella città della disfeda per la medaglia d'argento all'edizione 2017 del Pizza World Cup e per la partecipazione in qualità di pizzaiolo all'edizione 2019 di casa Sanremo. Saranno i carabinieri a far luce sull'origine delle fiamme e sui danni riportati dall'esercizio che nel pomeriggio di venerdì ha ripreso la regolare attività. Sulla vicenda chiede intanto di tenere i riflettori accesi un'impresa BAT. Il fatto che non si siano registrati danni materiali non ci tranquillizza perché quelli morali, psicologici e umani sono enormi. Si legge in una nota che estende l'allarme anche ai comuni limitrofi. Barletta non merita questa violenza e chi ancora non prende chiare posizioni di condanna deve cominciare a fare una serie analisi. Tirando fuori sdegno e rabbia contro le prevaricazioni conclude la nota che continuano a registrarsi anche nelle città vicine.